Sul patto di stabilità stiamo lavorando affinché sia un patto di stabilità e crescita. Noi riteniamo che se ci sono delle spese che sono non frutto di una scelta di aumento del debito pubblico da parte del deficit, da parte del governo, ma sono frutto di scelte esterne, la green economy è una scelta europea, la guerra in Ucraina non è una scelta del governo, quindi se c'è un impegno universale ad aiutare l'Ucraina, se c'è un impegno a intervenire per raggiungere un'economia più verde, io credo che per esempio questi due settori di spesa debbano essere scorporati dal calcolo del rapporto deficit-PIL. Per quanto riguarda il MES, l'ho ribadito ieri pomeriggio durante la riunione anche al Cancelliere Scholt e al Ministro delle Finanze tedesco, che tutti gli aspetti macroeconomici devono essere affrontati insieme. Patto di stabilità, MES, Unione bancaria, armonizzazione fiscale, perché tutta la politica macroeconomica è parte di un comune disegno che dovrebbe essere finalizzato a sostenere la microeconomia, cioè la finanza, gli aspetti finanziari devono sostenere l'economia reale che è l'industria più l'agricoltura. Quindi tutto deve essere insieme, se si vuole partire dal patto di stabilità, partiamo dal patto di stabilità, poi affrontiamo il MES, affrontiamo l'unione bancaria, affrontiamo l'armonizzazione fiscale, perché non possono esserci paradisi fiscali in Europa, non può essere lasciata l'unione bancaria a metà, quindi affrontiamo il pacchetto nel proprio insieme. Prima risolviamo il patto di stabilità, poi una per volta affronteremo le altre cose, compreso il MES. Ma qua non si tratta di compromessi, bisogna affrontare concretamente. Punto per tutto, uno alla volta, ma ripeto, non c'è... Io sto ponendo sul tavolo la questione complessiva delle scelte finanziarie, di politica finanziaria dell'Unione Europea, che sono quattro i temi. Patto di stabilità, che ha un'urgenza perché è sospeso il vecchio patto che non può assolutamente rientrare in vigore. Secondo il MES, terzo l'unione bancaria, quarta l'armonizzazione fiscale, ma il dibattito non può fermarsi ai primi due, bisogna andare avanti anche sul terzo e sul quarto punto. Questo perché insieme una politica macroeconomica europea, cioè una politica finanziaria europea, è indispensabile per sostenere l'economia reale. Perché l'economia reale è quella che produce benessere e ricchezza, mentre la politica finanziaria fa girare i soldi, diciamo così. Quindi serve una visione complessiva. Non possono esserci paradisi fiscali, perché? Perché se ci sono dei paradisi fiscali si crea una concorrenza sleale all'interno dell'Unione Europea. Quindi tutto quanto insieme deve essere valutato dai paesi dell'Unione per dare risposte concrete ai cittadini, soprattutto ai cittadini che cercano lavoro e che hanno bisogno di una politica finanziaria veramente forte a sostegno dell'impresa sia industriale sia agricola.